Adesso è il momento della rubrica La spalla e il comico Stefano Sarcinelli e Marco Marzocca Prego, io passo di qua, vado di qua Buonasera Buonasera a tutti, questa sera voglio svelarvi il segreto della magia del teatro è una convenzione, è questa la quarta parete che divide l'attore dal pubblico e là, oltre la quarta parete, non c'è nessuno tutto vuoto, di qua al di qua della quarta parete l'attore è solo con i suoi drammi, solo solo, solo signor, signor, scusa signor che c'è, che c'è, sto lavorando, che c'è scusa signor, io lavoro a casa del signore due botte a settimana, lavoro a giudì signor e giorno dopo giudì due botte a casa di lui lavoro io con chi stai parlando? con chi stai parlando? come, con chi? che la gente che sta qua quale gente? la gente qua che sta qua ma scusa, dove siamo? a Montecatini ma che Montecatini, Montecatini, Montecatini? sì ma siamo a teatro a teatro quindi se siamo a teatro davanti a tu e io chi cosa c'è? c'è un signore con i dita nel naso ma che signore di dita nel naso? quel naso ma guarda meglio sì c'è? c'è? un muro ah c'è un muro ma quale è il muro? i cavalli dietro è il muro c'è la quarta parete ah un muro ma perché non la vedi? dove? qui non la vedi? no nel rete non la vedi? è pericoloso? non la vedi? un pochetto sì ah meravale grazie sì meravale che ho pensato ho pensato che soffesso che la vedo solo io sì pure io l'ho pensato ho detto se la vedi solo lui è fesso però io ho deciso sì no no signore se la vediamo tutte e due siamo tutte e due fessi no fessi vediamo tutte e due la quarta parete la quarta parete è come la parete di un appartamento sì sì ti piace? bella qui bella e di che colore è? eh che colore è? l'ho chiesto io a te scusa ah io devi dire eh sì blu è blu ma c'è una quarta parete blu no ha detto apposta io su dai fuschia eh? fuschia colore fuschia che è fuschia? fuschia è un rosa fotte 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 fucsia no ma che faccio fucsia no è come la parete di un appartamento quel colore giallino paglierino è come la parete di un appartamento che ci ho messo qua su questa parete io che ci ho messo qui? che c'è qui? un bucolo rotondolo ma che bucolo rotondolo? c'è un bucolo rotondolo? no signore c'è un barometro ah un burolo barometro sai cos'è il barometro? no il barometro serve a misurare le bare ma che le bare? le bare a misurare il tempo la pressione del tempo ah sì il barometro il barometro misura il tempo e l'orologio misura le bare no signore essendo una parete che ci ho appoggiato qui a questa parete che c'è qua appoggiata a questa parete? un signore con gli occhiali no signore un porto ombrelli che sembra un signore con gli occhiali per favore per farti vedere che la quarta parete esiste del reale guarda dimmi di andare avanti guarda che succede dimmi di andare avanti ma non così un poco più gentile ma ma adesso è una gallina no signore guarda che succede sì mamma mia ah guarda mi sta scendendo il sangue ahiaiaiaia ahiaiaiaia scusa signore ma che te sei fumato l'insalata tua che sta a picchidiferi no signore che insa zitto e quella è vietata non ti dice che quella non si mangia si fuma solo ha detto dire guardiamoci negli occhi e diciamo non è vero non è vero per farti vedere che c'è una parete reale ma che è fumata è fumata non stiamo scherzando poi c'è una cosa vera reale concreta e le gente la gente non c'è a teatro oh scusa e questo chi è guarda 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 qua guarda quante c'è scusa vabbè vabbè poi dice a me questa è una signora vera viva quella un po' meno però la gente c'è hai rovinato la convinzione del teatro va bene dice che non c'è devi immaginare che c'è questa parete qua una parete come se devi pensare all'immagine poetica pensa alle parole di un poeta pensa alle parole di un grande poeta pensa a un bate no signore scusa no scusa signore no perché sempre ogni volta io l'ho pulito pure oggi signore bate ma che cosa c'è no no Bicchi lui sempre allora a casa sua c'è solo lui con la moglie io bagno a casa sua non ci va chi è che schizza sto parlando di un'altra cosa sto parlando di un'altra io sto parlando di un grande bate chiaro un grande bate un poeta signore se c'aveva un grande bate la faceva dentro e non schizzava fuori ma per farti capire l'immagine poetica devi considerare questo muro come se fosse un muro di cinta ah sta incinta il muro ma che sta incinta il muro sta incinta ma il muro di cinta che fa quando va a partorire fai muretti ma che muretti e muretti pensa alle parole di un poeta un cima a questo muro coccia guzzi di bottiglia quindi impossibile da scavalcare guzzi di bottiglia esatto e io sta fuori dai fuori adesso ma aiuta a fa che? a scavacchi al muro? ma si scavacchi al muro giù sta gamba che sei un cane con sta gamba non l'ha fatta non l'ha fatta però che tu la fai così io no tu la fai così? certo che la faccio così non ti ricordi la mattina mi metti la museruola il guinzalio esco alzo la gamba e faccio la pipì non ti ricordi? si mi ricordo ma che ti ricordi? tu hai detto ti ricordi? è un modo ironico per dire che non è vero come vuoi che faccia la pipì? scusa boh chi ne sa io mica la faccio te io come vuoi che la faccia scusa boh da come trovo il bagno è attaccata al lampadario allora per favore per favore per favore piuttosto hai capito la magia del teatro? sì allora dille a parole tue la magia del teatro allora lo devo dire io e di allora la gente ceplo non c'è giusto muro non ceplo c'è giusto tu c'è io c'è sì c'è pure io chi c'è c'è chi non c'è non c'è e adesso adesso 10 9 ignition sequence start 6 1 1